Presidente, noi abbiamo in finanziaria inserito una norma che ci consente di recuperare dallo Stato le accise che sono a noi dovute e intendiamo abbattere il costo della benzina alla pompa e siamo un milione di sardi che possono utilizzare questa opportunità. Un milione di sardi. Tutto questo, Presidente, verso un percorso, verso un obiettivo alto che è un obiettivo a portata di mano, un obiettivo sul quale si è espressa l'Europa con la Commissione europea, si è espresso il Parlamento europeo e per il quale manca solo il governo italiano. La Sardegna può diventare la zona franca d'Europa e noi combatteremo per la zona franca d'Europa perché siamo stanchi, siamo stanchi, siamo stanchi di questa tassazione, siamo stanchi di Equitalia, basta Equitalia, vogliamo interrompere le procedure esecutive.